Esattamente fra una settimana ricorre l'anniversario della morte di Luana d'Orazio, la giovane operaia che appunto il 3 maggio dell'anno scorso è morta al suo orditoio mentre stava lavorando. Fra tre giorni, il primo maggio, si festeggia appunto la festa di tutti i lavoratori e oggi, il 28 aprile, è la festa, anzi per meglio ancora dire la giornata in cui si ricorda che cosa è necessario fare per la sicurezza sul lavoro a livello mondiale. Il tema del lavoro è centrale sui quotidiani di oggi, è centrale anche nella città da cui vi trasmettiamo, Prato, ne parleremo approfondendo appunto i quotidiani e anche in colloquio con il sindaco di questa città, Matteo Biffoni, lo faremo anche parlando di altri temi importanti come il ricatto energetico e come un importante diritto conquistato dalle donne ieri nel nostro paese, lo facciamo a prima di tutto, tra poco. Questo programma è offerto da Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro, www.nigrocostruzioni.it Confcommercio Pistoia e Prato, scopri vantaggi di essere socio. Buongiorno, giovedì 28 aprile, ripartiamo con la la nostra rassegna stampa di TV Prato, ripartiamo con l'approfondimento dei giornali, rimbalziamo fra quelli nazionali e quelli locali cercando di costruire una trama, un racconto, anche un ragionamento con i nostri ospiti giorno per giorno. Oggi le prime pagine, ecco partiamo dal Corriere della Sera, il ricatto della Russia sul gas e questo purtroppo come sempre negli ultimi giorni il tema dominante, quello della guerra, quello che ci accompagna quotidianamente e l'apertura del Corriere oggi è su questo aspetto che in realtà facciamo presente già da alcuni giorni, che si è rivelato più vivo che nei giorni scorsi, ovvero zero forniture ai paesi ostili, Putin minaccia l'uso di armi mai viste. Draghi da Biden a maggio, questo è il titolo del Corriere della Sera appunto sul ricatto energetico che mette in campo il leader russo riguardo agli sviluppi della guerra. Subito troviamo in prima pagina sul Corriere l'altra notizia del giorno a cui vi facevo cenno precedentemente, ai figli anche il cognome della madre, l'articolo di Alessandra Rachi dice illegittimo dare in automatico il cognome del padre ai figli, la consulta ha stabilito e lo ha fatto ieri con una sentenza storica che la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori salvo che questi decidano diversamente appunto di comune accordo. Questo è un passo molto importante per il nostro paese, sappiamo che le regole erano completamente differenti fino a ieri, parleremo anche di questo più avanti approfondendo i giornali. Andiamo ancora su altri titoli di prime pagine nazionali, l'avvenire e la pace si fa cooperando, questo è un altro aspetto della guerra, Mattarella spinge, dice appunto il titolo d'apertura di avvenire, torniamo allo spirito di Helsinki, l'Italia riapre al carbone, 4 impianti a pieno regime se verranno tagliate le forniture di gas russo, anche quello del tema energetico, quello dell'indipendenza, non solo dell'Italia ma anche a livello regionale è un tema dominante sui giornali locali, vediamo che si stanno cercando attraverso il dibattito di trovare delle strade possibili, ieri abbiamo parlato brevemente dell'idrogeno, oggi facendo riferimento al titolo di avvenire si torna a parlare di carbone, non è il Medioevo ma è una prospettiva purtroppo reale e contemporanea che ha anche a che fare molto con la vera sfida dei nostri tempi, quella di tenere insieme la battaglia per l'ambiente che tanto ci ha appassionato anche a livello giornalistico negli ultimi anni con quella di poter dare energia al nostro paese per esempio e farlo in maniera pulita, non è semplice, specie in questi momenti di emergenza, specie in questi momenti di ricatto energetico come abbiamo letto sul titolo del Corriere della Sera. Andiamo avanti con altre prime pagine dei giornali nazionali, La Repubblica, prima di passare ai locali, ai figli anche il cognome della madre, è appunto la notizia che abbiamo appena letto sul Corriere della Sera, quindi non indugerei oltre riguardo questo, ancora Mattarella e mi pare sia arrivato il momento di passare ai quotidiani che si occupano più diffusamente della regione, quindi della regione toscana e anche di Prato. Tavolini, mille domande in meno, questa è l'apertura del Corriere Fiorentino, ovviamente si fa riferimento a Firenze e quindi al problema che già ieri abbiamo discusso intersecandolo con quello dell'overturism e poi abbiamo anche altri articoli che riguardano la regione e in particolare il bilancio ok evitato il commissario. Su questo è anche interessante, andando a approfondire il Corriere Fiorentino, vediamo che è tramontata l'ipotesi del commissariamento, ieri il governatore Gianni era ospite di questa trasmissione e lo ha detto proprio da noi e devo dire che anche la palma per la prima citazione è vinta come vedete da Giulio Gori che su questo articolo scrive sempre ieri su questo il governatore aveva parlato prima di tutto la rassegna stampa di TV Prato, a me piacerebbe dare ai medici tutte le condizioni che loro vogliono, perché dice il governatore, perché ovviamente c'era una polemica anche abbastanza pesante dei sindacati dei camici che imputavano al governatore il fatto di aver tagliato nel bilancio le spese sui farmaci, sulle forniture dei farmaci, il governatore ha detto che è difficile confermando questa scelta, è difficile anche dare risorse a tutti, specie in un momento difficile come questo, abbiamo parlato ieri molto a lungo del fatto che il bilancio regionale soffra di diverse mancanze ovviamente dovute al fatto che in pandemia si è speso moltissimo. Passiamo velocemente al Tirrino di Prato, perché volevo farvi vedere quello che è successo ieri, poi ne parleremo con il nostro ospite che vi ho anticipato essere il sindaco di questa città, ma anche il presidente Bianci Toscana, questo è un aspetto molto importante che vorrei discutere con lui, e Apreprisma Casa delle Nuove Tecnologie, qui tre start up al servizio delle aziende, nell'articolo di Maria Lardara leggiamo che sono 300 metri quadri accanto al Pegaso 2 con spazi per seminari, tavoli interattivi e anche realtà virtuale, un'iniziativa a cui il Comune teneva particolarmente, a cui è partecipato anche la Regione con l'assessore Stefano Cioffo, è importante non solo dal punto di vista della narrazione di Prato, ma è anche importante probabilmente dal punto di vista politico, per quello che significa coloro che non sono di Prato non sanno che quel posto, il posto dove è stata installata questa seconda, questo terzo progetto di Prisma è un posto che ha vissuto vicende alterne e anche poco fortunate, è l'ex Creaf, un centro di ricerca che per 20 anni doveva essere realizzato ma non ha mai visto la luce e finalmente sia con il Pegaso, con il centro vaccinale che ora con questo progetto che è veramente ad alto contenuto tecnologico, vede un'alba diversa insomma, qua Maria Lardara scrive cilindri di cartone per svuotare la mente dopo una giornata di lavoro, un'amaca super tecnologica donata dalle manifatture digitali cinema come zona relax, una pioggia di tubi blu per fare il pieno di creatività mentre con la realtà aumentata ci si catapulta dall'altra parte del globo con il gemello virtuale, insomma una serie di iniziative che fanno parte di questa nuova installazione di Prisma e che sono elencate bene da Maria Lardara di cui vi invito a leggere l'articolo comprando i giornali come facciamo ogni giorno, andate in edicola se potete fatelo, comprate i giornali locali, la Nazione, il Tirreno, comprate i giornali regionali, la Repubblica, il Corriere, lo diciamo sempre perché questo è un approfondimento ed è un primo sguardo su quello che succede nel mondo attraverso la Toscana ma a noi piace che si approfondisca anche dal punto di vista personale, piace dare spunti. Voglio solo dare, visto che il tempo stringe e voglio parlare a lungo questa mattina con il Sindaco Biffoni di diverse questioni, voglio solo dare un ultimo sguardo a questa notizia sempre sul Tirreno, la prendiamo dal Tirreno, il sostituto Lorenzo Gestri lascia Prato dopo dieci anni, è una notizia importante appunto dopo dieci anni di lavoro a Prato, dalla prossima settimana il sostituto procuratore Lorenzo Gestri prenderà servizio alla procura di Firenze, non è che smette di fare il PM, però va a Firenze un pubblico ministero simbolo, un magistrato simbolo di questi dieci anni, magari adesso chiederemo anche all'amministratore numero uno, al Princeps Interpares della Giunta Comunale cosa ne pensa, sono state tante le battaglie che hanno combattuto insieme, non ultima quella per fare chiarezza sul caso della Teresa Moda, ricorderete tutti il primo dicembre del 2013, quella strage che poi ha dato il via a una serie di iniziative legislative e sociali molto importanti per la trasformazione della città di Prato. C'è anche un articolo, ve lo segnalo, molto interessante sulla Nazione di Prato riguardo a Gestri, questo sul Tirreno ve l'ho segnalato, quello sulla Nazione di Prato firmato da Laura Anatoli e anche una sorta di intervista perché il pubblico ministero racconta insomma come è cambiata la sua vita rispetto a quella vicenda della Teresa Moda che prima vi dicevo non faccio in tempo a leggervelo ma faccio in tempo a segnalarvelo e faccio in tempo a dirvi che c'è un piccolo break per voi, un caffè, giusto il tempo di un caffè per poi invece approfondire le notizie del giorno e molto altro con il sindaco Matteo Biffoni. Questa è una storia di fede, di cooperazione cristiana e mutualità verso gli altri, vere basi di tutto ciò che vuole diventare grande. Questa è la nostra storia. Oggi come allora gli stessi valori rendono i soci, le famiglie e le aziende parte della nostra banca. Banca Alta Toscana, una bella storia scritta insieme. Sensi. Fermiamo la qualità dal 1890. Studi medici Esthetic Medical Care, nuova sede in via Udine 56. Nuovi servizi. Gastroscopia da 115 euro. Coloscopia da 145 euro. TAC da 110 euro. Mammografia da 80 euro. Risonanza magnetica alto campo 1,5 Tesla da 130 euro. Macchinari all'avanguardia, massimo comfort per il paziente. Nessuna lista d'attesa, convenzionati con le principali assicurazioni sanitarie. Esthetic Medical Care, ogni giorno al tuo fianco. Buongiorno, bentornati a Prima di Tutto. Approfondiamo come promesso con il Sindaco Matteo Biffoni che oggi ci viene a fare gradita visita qui a Prima di Tutto. Buongiorno a lei Sindaco. Sindaco, parliamo subito di questa ultima notizia che abbiamo approfondito. Se ne va da questa procura, ovviamente, Lorenzo Gestri e va in un'altra procura, quella di Firenze, l'importanza di questa figura per Prato. Mi sono permesso di mandargli un messaggio di saluto perché Lorenzo Gestri è stato comunque, vado a delà di un ottimo procuratore, di una figura importante dentro il nostro tribunale, tra l'altro, con i vantaggi e le difficoltà di essere profeta in patria, perché Lorenzo Gestri è nato e cresciuto in questa città. Al di là delle tante inchieste che lo hanno visto protagonista, il dottor Gestri è stato colui che ha seguito forse il caso dei casi, non so come definirlo diversamente. Ha fatto anche scuola dal punto di vista giurisprudenziale. Esatto, Teresa Moda è stato oggettivamente un processo che lo ha visto insieme ai suoi colleghi in prima fila, impegnato in prima fila insieme a un procuratore Nicolosi, insieme a tanti altri professionisti, per un caso che ha fatto scuola, che ovviamente era di rompenza. Penso davvero che per la nostra città il primo dicembre 2013 sia stato un prima e un dopo, diciamolo in questo modo. Ha seguito questo, poi nel corso del tempo si è specializzato, io ricordo i suoi tanti interventi, anche a convegni di vario genere, anche in tanti momenti della vita della nostra città, su quelli che sono uno dei temi più dolorosi e più complicati, cioè quello dello sfruttamento lavorativo, quello del caporalato, sua sempre l'inchiesta, per esempio dei famosi lavoratori inchianti, nata proprio qui da Prato, e effettivamente aveva raggiunto, ha raggiunto, cioè un patrimonio ovviamente culturale che gli resta, una specializzazione e una competenza su questo tema così complicato è delicato perché è vero che è stata cambiata la norma sul caporalato. Sì, sì, tra l'altro è proprio questo processo che stava citando il sindaco, è stato il primo dell'applicazione su questa norma del caporalato istituita dai governi Renzi e Gentiloni, mi sembra che lei in quel momento era parlamentare. All'inizio sì, poi ne parliamo. Quando partì, e effettivamente, che è un reato molto complesso per dimostrare perché lo sfruttamento non è facile, ecco il dottor Gessere ha raggiunto, ripeto, ha raggiunto una competenza su questo argomento che penso gli possa tornare utile, purtroppo gli potrà tornare utile anche nel suo percorso successivo, si rimette in gioco, da un lato bisogna fargli complimenti perché il suo percorso era un... Ci associamo anche tutta la stampa, devo dire che è rimasta sempre molto colpita dal modo che ha di lavorare il dottor Gessere, quindi lo salutiamo da Prato, ovviamente poi la procura perde un pezzo importante, però magari era di questi professionali. Ne arriverà un altro da 90, le volevo chiedere sindaco, rimaniamo su questo tema perché mi sembrava molto interessante quello che stava dicendo, quello spartiacque del primo dicembre 2013 è uno spartiacque per la città, ma sono rimasti alcuni problemi che ruotano ovviamente intorno al lavoro, questa è la città del lavoro diciamolo chiaramente, insomma è un tema che lei ha affrontato già dalle prime campagne elettorali, però rimane il problema dello sfruttamento declinato in maniera diversa, esiste oggi un sistema? C'è un sistema che è diverso rispetto a quello del primo dicembre 2013, ma è un problema che c'è, allora fino al primo dicembre 2013 credo che ci fosse un problema che era palese ai Pratesi, era conosciuto ai Pratesi che in quel momento la giunta stava affrontando, la giunta che era in carica allora stava affrontando con i modi, diciamo, senza nessun tipo di polemia lo dico, con determinati tipi di strumenti che fra l'altro in parte sono rimasti anche adesso, però c'era un problema oggettivamente, non voglio dare responsabilità a nessuno, intendo questo, era un problema quello dei dormitori diffusi, quello dell'utilizzo dei capannoni come cucine, come luoghi ambienti, con la commistione come dire assoluta tra ambiente di vita e di lavoro. Io credo che dal settembre del 2014, quando è iniziato l'operazione del lavoro sicuro, quel tipo di condizione, abbiamo visto, è bastato mollare un po' e a Montemurlo sono stati diminuiti, però è aumentato invece un altro tipo di problema. Esatto, nel senso, il risparmio, chi voleva fare il furbo, chi voleva fare il furbo, chi voleva fare il furbo, stare fuori dalle regole, prendeva 10, 15, 20 lavoratori, li metteva a vivere dentro il proprio capannone e chiaramente creava un risparmio e gli consentiva di drogare al mercato sotto questo punto di vista. Le operazioni intense, perché lo voglio ridire, perché se no forse si perde il senso delle cose, 15 mila controlli effettuati, controlli significa che ispettori della ASL e agenti della Polizia Municipale, spesso accompagnati da guardia di finanza, carabinieri, IMSI, entravano fisicamente dentro i capannoni, hanno portato a una diminuzione drastica di questo fenomeno, cioè della commistione di vita e lavoro. Ci sono, ripeto, pandemia e poi a Montemurlo sono stati trovati 30, 40 loculi, quindi c'è ancora da lavorare, ma abbiamo altri problemi. Cosa è successo? Si è intensificato, almeno questa è l'impressione che abbiamo, per esempio il dottor Gestin è stato protagonista in tanti casi, in quello che è il vero e proprio sfruttamento lavorativo, cioè si va oltre le regole, abbondantemente oltre le regole stabilite dal codice civile, si sfrutta i lavoratori a nero, si sottopagano, si utilizzano in maniera impropria contrattualizzazione, penso al part time, penso all'apprendistato, in realtà facendogli fare tutt'altro, insomma tutto quello che poi abbiamo visto costantemente, si contrattualizzano le persone per 4, 5, 6 ore, si fanno lavorare 12, 13 ore, non si riconoscono in periodi di ferie, insomma si è entrato in un meccanismo che è più specifico forse, più, permettetemi questa espressione, raffinato, nel senso… tra l'altro c'è anche un problema di, se vogliamo, etnicizzazione che non riguarda solo Prato ma tutto il distretto, quindi è molto complicato… Diciamo che c'è una fascia di fragilità, io su questo fatemi dire questo, è il grande tema della fragilità, senza fare troppa filosofia, a monte c'è un tema di fragilità perché è chiaro che ci si rivolge agli ultimi, quelli che hanno meno copertura, quelli che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi sociali, quelli che hanno più difficoltà ad accedere alle istituzioni tutte, che hanno anche difficoltà ad accedere alla porta dei sindacati, certe volte, perché sono fragili, perché hanno paura di perdere il permesso di soggiorno, addirittura il permesso di soggiorno non ce l'ha, e si entra in un meccanismo ancora più ampio e però… Certo, è molto chiaro, senta, sindaco qua prima abbiamo fatto vedere, mi alzo per mostrare la pagina che abbiamo mostrato del Tirreno, ma anche sulla Nazione c'è, insomma Prisma, questo progetto di cui avete parlato ieri, che avete inaugurato ieri, è la seconda parte se non ricordo male di un progetto di tre parti, ora ci sono tre aziende che hanno vinto questo bando e per sei mesi saranno lì, quanto è importante dare questo messaggio anche sulle macerie di ciò che è stato prima… Ah, no, è strategico, lo dico dottor Bernardini, è strategico, io penso che Prisma non sottovalutiamo quello che secondo me è uno dei turning point cittadini, nel senso che PIN, ieri i locali ex-FREAF per capirci in via Galcianese, tra poi via Pistoiese, l'ex Forti, lì noi abbiamo intercettato un finanziamento del Ministero che ci fa passare dalle parole ai fatti, se noi prendiamo i programmi elettorali, presi di sottoscritto o le interviste abbiamo fatto, quante volte abbiamo parlato di intercettare i nuovi cervelli, le nuove professionalità, portare nuove tecnologie, questo si è fatto, Prisma è questo sostanzialmente, si dice a imprenditori, professionisti d'Italia, perché le aziende sono venute, sono da Firenze, sono da Prato, ma sono da Modena, sono da Brescia, arriveranno a tante parti, noi vi mettiamo… Infatti la interrompo sindaco, è un tema interessante perché non solo si intercettano, come diceva lei, ma anche si fanno rimanere. E qui si dice venite, qui trovate tutte le condizioni tecniche, tecnologiche, ma anche di affiancamento di professionalità, professori universitari, ricercatori universitari di Firenze, il PIN, che vi accompagnano nel trasformare la vostra brillante idea in fatto, in particolare a questi gli abbiamo chiesti, ovviamente un privilegio, un occhio di riguardo, ce l'avranno quelle aziende che parlano al mondo del tessile. Qual è che abbiamo detto? Dice, il tessile è il settore economico più maturo che conosciamo, quello fatto dagli egiziani in poi, diciamo così. Come ci applichiamo le blockchain, il 5G, le nuove tecnologie? Lì dentro si fa questo e già gli esempi che noi vediamo vanno esattamente in questa direzione. Certo, leggevo proprio nei giorni scorsi un'intervista di David Bruschi a Riccardo Bruschi di Tecnosistemi che parlava proprio di questo, parlava insomma del metaverso, di come accostare il metaverso anche all'industria tessile che oltre a essere la più matura e quindi anche apparentemente la più distante da quel mondo, in realtà è anche l'industria che caratterizza ovviamente il nostro distretto. Lui ancora, il distretto tessile è ancora… E sarà, il distretto tessile, e su questo mi direi, ho poche certezze nella vita, questa è una di quelle, che non tornerà, lo dico ai miei amici imprenditori che mi guardano diciamo certe volte un po' di traversa, non torneranno gli anni 80, nemmeno gli anni 90, è cambiato il mondo intorno a noi, è cambiato il contesto storico, purtroppo come vediamo, basta niente, basta quello che è successo in Ucraina e in Russia, già cambiano le condizioni, ma pensate a quello che è successo durante la pandemia, cambiate completamente i contesti, ma diciamo io non penso che torneranno gli anni 80 e gli anni 90, una cosa so che resterà il distretto tessile pratese, è e resta il più grande distretto tessile d'Europa, è impensabile che possa essere sostituito da qualcos'altro, deve essere irrobustito da qualcos'altro, ma resta, comunque vada il nostro punto di riferimento resterà per tantissimi anni. Forse la tecnologia può essere la risposta, senta Sindaco, ha parlato di anni 80 e 90, mi piace in questo momento, purtroppo in questi giorni, in questo programma, insomma non abbiamo sempre tempo di ricordare tutti, ringraziare tutti, ma lo faremo giorno per giorno con una tecnica goccia a goccia, però 80 e 90 tessi è, mi ricorda una tv che fu e un programma che fu al posto di questo programma, non esattamente, però facendo ovviamente la rassegna stampa, c'era insomma un altro programma condotto Occhio alla Civetta, io sono arrivato in questa città e lo guardavo, voglio sapere che ricordo ha di questo, è anche un modo per omaggiare. Io ricordo ora, giustamente mi dicevano che era una replica, però io lo guardavo dopo pranzo, anche noi lo dico, prima di tutto va anche dopo pranzo, anche alle 11, ma è anche un podcast, quindi potranno ascoltare le... Ecco, io gli occhi alla Civetta per me era, non so, era ipnotico, non so come dire, Poi Aldo Masci, chi ricorda di quella pratica, aveva un modo particolare di gestire la rassegna stampa, era lui che leggeva il giornale, ci indicava che erano gli articoli più interessanti, ma tenete presente, teniamo presente, ricordiamoci ora perché se no si è appescolata tante cose, che lì non c'era internet, non c'erano le notizie, c'erano le notizie di giornale, erano quelle che te leggevi sul giornale e magari durante appena pranzo, tornati a scuola e così, a me piaceva perché effettivamente era un modo particolare di conoscere anche e soprattutto quello che succedeva in città, ma non solo, perché poi Masci spaziava su tante cose e per me è stato uno dei ricordi che io ho, di quello che poi è diventata la passione politica. Molto interessante questo, nasce anche da qui magari? Nasce anche da qui, nel senso, non era normale, si poteva guardare tante cose, però a me capitava spesso appunto che io guardavo quel programma durante, diciamo, subito, immediatamente dopo pranzo, durante il pranzo, immediatamente dopo pranzo. Certo, i registi di questa trasmissione mi ricordavano infatti che si preparava tantissimo sin dal mattino e insomma è per noi uno stimolo, è stato anche per lei uno stimolo e questo insomma è un aprato che fu, invece veniamo all'aprato che è, ha parlato sindaco di passione politica, che poi nasce, ecco insomma per ricordarlo la sua passione politica è di lungo corso, ha fatto il consigliere comunale e poi la sua carriera è progredita, la prima domanda che le voglio fare è questa, non si può ancora, ma se si potesse lei lo rifarebbe il sindaco? In questo momento è difficile dirlo, me l'hanno già chiesto, perché il punto è, devi arrivarci con una, fare sindaco in una città come Prato bisogna innanzitutto avere gas aperto, nel senso che la città ti chiede tanto, la città ti chiede molto, a costo anche di sacrifici di carattere personale, familiari eccetera, ma è giusto così, io interpreto così il ruolo e non credo sia interpretabile diversamente, quindi devi arrivarci con la testa che ti dice se è in condizione di farlo, che quasi tutte le sere c'è qualcosa da fare, che i giorni iniziano, la mattina alle sette e mezzo, io in realtà prima porto figli alla scuola, poi dopo, e finiscono a mezzanotte, ma personalmente a portare i suoi figli a scuola e poi cominci? Sì, sì, quasi tutte le mattine posso, vado, almeno li vedo lì, nel senso, poi il sabato e la domenica, comunque quando ci sono tanti impegni, ecco, devi arrivarci con la testa che ti dice fallo, tutti noi eravamo parametrati sui dieci anni, perciò, diciamo, io vorrei capire, se dovessi rispondere ora ti direi forse anche di sì, cioè nel senso, però in questo momento ho paura, sarebbe tentato se fosse possibile, nel senso, la mia testa mi dice, però bisogna arrivarci, io non penso sia possibile, francamente ti dico, la tentazione ci sarebbe, ma dico anche, in questo momento non sono sicurissimo che... Cosa vuole fare da grande? Non ne ho la più palle, dai, voglio arrivare in fondo in mandato vivo, possibilmente No, non è semplice, lo capisco benissimo, tra l'altro il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, occupa da anni anche una carica strategica molto importante per questa regione, che è appunto il presidente del Lanci, dell'Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana, e anche questo magari, insomma, dopo aver fatto il parlamentare, penso le abbia dato... No, è bello, ripeto, è anche qui girando... Hai dato degli stimoli, non so, forse vuole proiettarsi sulla politica regionale? Non lo so, no, francamente quello è bello, io ho scoperto una Toscana che non conoscevo, è una Toscana fantastica, è stato... tra l'altro ti confronti anche con realtà diverse del nostro, se no rischi di essere... vedi solo che succede a Prato, e va bene, è giusto, ci occupiamo di quello, però poi chiaramente vai in Garfagnana, Lunigiana, Casentino, in Val d'Orcia, in Val di Cornia, la Toscana nascosta, e vedi anche... ti hai a che fare poi anche con questioni che ti possono essere utili nel tuo lavoro, e anche lì parlando con i colleghi è lo stesso discorso, cioè, nessuno di noi credo... Dario ho visto Nardella, ho visto molto lanciato sul terzo mandato, io ecco, vi dico, io vorrei decidere se mai dovesse essere quando... in prossimità della scadenza, perché lì vedi se sei nelle condizioni mentali, di essere pro, a me se non concesso che venga concesso, ma io ho delle perplessità che venga concesso il terzo mandato, ma lasciamo fare... Anche io, no, no, ma infatti io glielo chiedevo più dal punto di vista umano... Devi essere mentalmente deciso, quindi secondo me è una decisione, ancora c'è quasi due anni di mandato, è una decisione che devi prendere, secondo me, quando sei in prossimità... Sono d'accordo, lo capisco perfettamente, anzi, la ringrazia di aver... Io dico, bello, mi piace il mestiere, faccio, questo lo sanno tutti... La ringrazia di aver risposto sinceramente, non è banale, senta Sindaco, visto che ha parlato di questo, le volevo chiedere anche questa cosa, mancano due anni alla fine del mandato, due mandati pieni, ovviamente segnati, diciamo sempre, dalla pandemia che è stato un momento di fermo molto importante per i progetti amministrativi e non solo, anche delle nostre vite, lo capiamo perfettamente, questo lo dobbiamo sottolineare, però le vorrei chiedere, alla fine, al confine, con questi due anni appunto di distanza, che cosa le dispiacerebbe non aver realizzato se dovesse appunto non fare più il sindaco? No, io ho solamente il mio figlio, diciamo, il mio terzo figlio, che è il sottopasso del soccorso, tutti sapete, diciamo, questo è stato... Beh, il tema del traffico è un tema molto importante. Oh, ma poi quella è la sfida delle sfide, dal punto di vista proprio, diciamo, dell'intervento urbanistico e anche del cantiere, è il cantiere più... Allora, diamo un filo alle cose, io, come sapete, diciamo, penso che oggi possa essere... Oggi è una giornata molto particolare per Prato, fra l'altro ricorre anche, venuto aprile, anche l'anniversario dell'attentato a Palazzo Chigi, in cui rimase ferito il maresciallo Gian Grande, a cui mando il nostro saluto e il nostro abbraccio. Oggi appunto dovrebbe essere la giornata in cui la conferenza Stato-Regioni stabilisce e delibera finalmente il finanziamento dell'articolo 20 per gli interventi sanitari, che per noi significa distretto socialitario di San Paolo, ma soprattutto finalmente il via libera alla realizzazione della nuova palazzina dell'ospedale Santo Stefano. Molto bene. Stiamo attendendo, diciamo, notizie da Roma, speriamo che tutto vada come deve andare e quindi questo è un primo percorso che nasce da un lavoro fatto con l'allora onorevole Giacomelli per convincere appunto prima la Regione, poi il Governo a fare questo intervento, che voglio adesso usare ancora il condizionale, però qui vediamo l'altro grande intervento, ovviamente il parco urbano, su cui anche lì una sfiga, due anni di ricorsi, adesso il serpentino, ma stiamo andando avanti e credo… Mi pare che invece su questo si possa arrivare per la fine del mandato. Si potrebbe arrivare, diciamo, ma insomma è importante… Certo, ho capito che è Scaramantico, ci mancherebbe… Esatto, il terzo grande intervento è il passo del soccorso, l'ho detto, io lì voglio far partire il cantiere, avrei potuto fare tante scelte diverse, sono andato, nel senso di aver trovato 43 milioni di euro per la nostra città, fare l'intervento di riqualificazione complessiva di un'area del soccorso, la connessione con Grignano, insomma tutto un grande intervento, vorrei andarmene quando finirà con il cantiere avviato, spero, aspetto a notizie da Anas da un giorno all'altro. Devo dire che in questo suo mandato sia da sindaco che a Lanci hanno rivestito un ruolo molto importante, le relazioni che lei ha saputo intessere con i protagonisti, lo dico perché spesso ci è capitato di raccontarle anche sui giornali e mi è buona, mi è gradita l'occasione per fare la domanda, aspetta una risposta da Roma sulla palazzina, ma ne aspetta una anche da Bruxelles, possiamo dire qualcosa? Ne aspetto una da Bruxelles, diciamo anche su questo, come dire, stiamo attendendo l'esito di un bando molto importante, molto significativo che riguarda tutte le città europee, non fatemi dire altro, diciamo che… Va bene, almeno l'ambito si può dire, è urbanistico. L'ambito diciamo quello ambientale, diciamo legato al contrasto, all'inquinamento e alla condizione che stiamo vivendo nel nostro pianeta complessivamente inteso, è un bando europeo che significa rivolto a tutte le città europee, sopra i 100 mila abitanti, vedremo. Vedremo quanti milioni di euro prevede il bando e soprattutto se arriverà, perché vediamo come va, almeno una mezza notizia abbiamo provato a darla. Senta Sindaco… Sì, ma io ho imparato con la pubblica amministrazione, ragazzi, dopo i primi cinque anni ero molto più… Era più diretto. …piun netto, adesso c'è di tutto, perciò è bene essere cauti. Perché questo è il vero problema del suo mandato, non del suo mandato di tutti, ovviamente, quello della burocrazia… Se posso dire, guardate, il mio amico, collega, presidente di Alli Nazionali Matteo Ricci, Sindaco di Pesaro, ieri, proprio ieri ha fatto un intervento pubblico dicendo ragazzi noi cantieri PNRR non riusciamo a mandargli avanti, non lo dico solo io, lo dicono praticamente chiunque, ormai basta che incontrate un sindaco per la strada, ve lo racconta, non ce la facciamo. Ora, oltre ai problemi della burocrazia, diceva ieri Matteo Ricci, io sposo un piano, glielo ho detto, perfetto, 30% in più dei costi energetici sui cantieri, la difficoltà di riferire le materie prime, la difficoltà di riferire le imprese. Ricordo di aver presentato il libro di Matteo Ricci, proprio con lei ospite qualche anno fa, però si è tirato la zappa sui piedi, Sindaco, perché adesso mi ha fatto ricordare che ieri Matteo Ricci mi ha detto che vuole costruire, mi ha detto per telefono ovviamente che vuole costruire nella sua città una curva nuova nel suo stadio. Ah, perfetto. Allora, le devo fare la domanda, anche perché TV Prato si è occupata diffusamente di questo tema. Com'è la situazione sullo stadio, sul Lungo Bisenzio? Sappiamo il Sindaco Biffoni, grande tifoso del Prato, messo in mezzo purtroppo anche amministrativamente a queste mille vicende che riguardano il Lungo Bisenzio, volevo sapere qual è lo stato di fare. Allora, lo stato è questo, io ho avuto una, diciamo col Presidente Commini abbiamo avuto una bella chiacchierata, abbiamo fatto il punto ieri l'altro, l'amministrazione comunale si è preso degli impegni, la Ciprato se ne è presi altri, c'è il problema della tribuna, il problema della tribuna è innanzitutto quello dei posti di lavoro dell'azienda che ha seguito quel cantiere, purtroppo le notizie ci sono arrivate da parte dell'azienda sono state un pochino dilatate, diluite, però capisco che quando un'azienda entra in difficoltà si cerca di fare di tutto, però adesso siamo arrivati a una condizione in cui un cantiere doveva finire il 31 di marzo, come obbligo contrattuale, avevano 15 giorni di comporto che avevano utilizzato chiedendo il prolungamento al 15 d'aprile, dopo da lì il comune si è mosso, è ovvio che noi auspichiamo, speriamo che l'azienda riesca a superare le proprie difficoltà, comunque vada a non entrare nella fase del fallimento perché sarebbe un disastro per il cantiere, ma anche e soprattutto per quelle persone che ci lavorano, questo a noi interessa, per questo stiamo provando a cercare, insieme agli uffici stanno provando a cercare una soluzione che consenta di fare partire il prima possibile il cantiere senza mettere in difficoltà i posti di lavoro di questa azienda, che è la cosa che più ogni altra ci preme, però è un impegno che noi come amministrazione comunale dobbiamo al Prato, quindi stiamo lavorando proprio per questo, la società è in diretto contatto ai nostri uffici tecnici per avere tutte le evoluzioni di questa situazione, speriamo di poterla consegnare appunto il prima possibile, poi lì decideremo insieme, noi ci siamo appunto presi degli impegni per fare degli interventi, sperando, auspicando che servano per la categoria superiore, questo è l'obiettivo, la Ciprat per fare la squadra e poi come dico sempre metteteci in difficoltà, io mi auguro tra un po' ci sia il Presidente Commini, ci siano i tifosi e mi dicono i posti allo stadio non bastano più, Sindaco spendi e noi a quel punto spenderemo. Così almeno il Sindaco può festeggiare una promozione, cosa che forse gli manca da un po' di tempo. A proposito di colleghi, ho visto la festa del mio amico Antonio De Caro, Presidente del Lancio a Bari con 30-40 mila persone in serie B del Bari dopo il fallimento, fra l'altro, quindi vuole indicare una strada. No, nel senso dico, alla fine il calcio è una gran cosa, il Bari era fallito, era scomparso sostanzialmente, poi è arrivato De Laurentiis, l'ha salvata, adesso proprio questi giorni hanno festeggiato la serie B con una festa di piazza, con migliaia di persone. Sì, molto bella, insomma era una società blasonata, lo sport, l'energia, la giustizia, alla fine finiamo sempre a parlare di lavoro in questa città, quindi ancora una volta chiudiamo come abbiamo aperto, ringraziando tantissimo per essere stato nostro ospite il Presidente dell'Anci Toscana e il Sindaco di Prato Matteo Bifoni, abbiamo capito qualcosa in più del suo mandato, qualcosa in più del suo futuro e speriamo di poter commentare le notizie spesso insieme qui a prima di tutto. A disposizione, è un grande piacere, ci mancherebbe altro, credo che sia una cosa piacevole molto per chi ascolta, speriamo per chi ascolta, sicuramente per noi perché è gradevole parlare delle notizie dell'oggi, tempo reale. Grazie ancora, potete ascoltare questa puntata sul podcast, potete vedere le repliche che vanno durante la giornata, io vi do appuntamento come ogni giorno a domani mattina, a prima di tutto. Questo programma è stato offerto da Comfcommercio Pistoia e Prato, scopri vantaggi di essere socio. Nigro Costruzioni, creiamo spazi, costruiamo il futuro. www.nigrocostruzioni.it www.nigrocostruzioni.it Grazie a tutti.